Ha minacciato la madre, poi si è accanito con calci e pugni contro la porta per entrare nell'abitazione. Un dramma sfiorato grazie alla chiamata della donna al numero del pronto intervento. È successo ad Arezzo alle prime ore dell'alba di domenica mattina, quando la donna, una 45enne vedova residente a Rigutino, dopo l'ultima di una lunga serie di violenti liti, ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. La donna aveva infatti già allontanato da casa il figlio, ma ieri mattina, prima dell'alba, il giovane ha tentato di far ritorno a casa. Ha così preso a calci e pugni la porta e da quel punto la madre, terrorizzata, ha chiamato il 112. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Arezzo sono accorsi sul posto. Dopo aver riportato la calma, hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118, perché il giovane si era procurato delle ferite alla mano per le quali è stato curato sul posto. Una volta accertato il rapporto problematico con la madre, poi, il ragazzo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e sottoposto su disposizione dell'autorità giudiziaria al divieto di avvicinamento alla madre e al contestuale allontanamento dalla casa familiare. Grazie.